Confermata ieri dopo 5 ore di consiglio la condanna di primo grado per Danilo Restivo, definito dai giudici della Corte d'Appello di Salerno, il carnefice che uccise Elisa Claps il 12 settembre del 1993 a Potenza. Per Restivo dunque confermati i 30 anni. Sono state così accolte le ragioni dell'accusa e respinte le tesi difensive ed innocenza dell'imputato. Solo pietà per quel carnefice, ma ha detto Filomena Iemma, mamma di Elisa Claps, nessun perdono. Elisa non è affatto in pace, ha continuato. Si sta rivoltando nella tomba, si rivolta a sottoterra per come Danilo Restivo si è comportato. Si doveva comportare da uomo e non l'ha fatto. Il condannato è invece rimasto impassibile di fronte alla conferma della sentenza, mentre i suoi avvocati hanno già annunciato di voler ricorrere in Cassazione. Nel frattempo Restivo continuerà a scontare l'ergastolo per l'assassinio di Heather Barnett, la sarta inglese che viveva vicino casa sua.